Con Spinozzi, il vice di Bonati, abbiamo visto un primo quarto d'ora nel quale si è fatto nettamente preferire il Lanciano, però poi siete usciti alla distanza, ottima la reazione, i gol subiti, insomma, bilancio di questa partita? La lettura è stata perfetta, di fatti noi forse siamo entrati in campo un po' dimorosi, forse è stato il problema del campo, del terreno di gioco al quale noi siamo poco abituati, però dopo buona la reazione, siamo rimessi in mezzo al campo bene, abbiamo preso in mano la partita, e diciamo che sia la seconda parte del primo tempo che buona parte del secondo tempo l'abbiamo fatta noi con un buon ritmo e come siamo abituati con i nostri ragazzi, considerando che oggi c'erano in campo parecchi ragazzi del settore giovanile. Spinozzi, anche un bilancio invece per quanto riguarda il campionato, perché ricordiamo il Delfino nel prossimo turno riposa e quindi praticamente il campionato per voi è finito, con 10 punti. Esatto, noi praticamente oggi finiamo qui questa avventura, questo breve torneo, chiamiamolo così, dove abbiamo giocato contro squadre nettamente più in forma, fatte per vincere il campionato, mentre noi siamo strutturati con dei ragazzi giovani per dare fastidio e per cercare di migliorarci. Il nostro obiettivo era crescere con tutti i ragazzi insieme, perché l'anno prossimo vorremmo ripartire e fare un bel campionato, perché le 38 partite del prossimo anno saranno indicative per noi, per vedere che cosa possiamo fare, dove possiamo arrivare. Giustamente poi per chiudere questo campionato, che anche se c'è un'altra domenica, ho saputo che appunto il Chieti è arrivato alla vittoria del Capistrello e quindi ha raggiunto la Serie D, meritatamente faccio i complimenti al mister Lucarelli, a tutta la società che merita. Lei che ha collaborato proprio con Lucarelli nell'anno della promozione della stagione 2017-18. Esattamente, il 18-19 sono stato insieme a Lucarelli e a Chieti e sono contento per loro.